Cosa bolla in pentola per il futuro? Proviamo a individuare il lavoro che verrà con l'inviato Alberto Alfredo Tristano. Questi divani sono di castore? Sì, questo è un divano, ci sono credenze, ci sono armadi, ci sono le cucine anche. Qui siamo in una delle camere da letto e come puoi vedere c'è anche un armadio di cartone che è stato proprio posizionato in un modo da far intuire le potenzialità dello spazio. Questo letto in realtà è una scenografia. Sì, una scenografia di casa. Si chiama home staging. Ville e appartamenti sono allestiti per poterli vendere e affittare al meglio, valorizzando le qualità di un bene immobiliare per di più in un momento di grande difficoltà per il settore, tra tassi alti dei mutui e crisi salariale. L'home staging è una tecnica di marketing. Noi utilizziamo l'interior design come mezzo per ottenere un fine puramente commerciale, che è la vendita o la locazione dell'immobile. Andiamo a definire, in base alla posizione, all'immobile, al contesto che c'è, il profilo della persona tipo, del cliente ideale.